Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo con la Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue brancia, per chiederti con lo Spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammetti mio a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affida finché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, vieni, vieni a regnare tra noi. Gesù. Gesù conquista tutti vincino manano volere affinché tuo figlio regni sulla terra mi fondo in te nel tuo volere Gesù, affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te nel tuo volere Gesù. Dal Libro di Cielo, volume decimo, capitolo 49, 20 gennaio 1912. Ritornando al mio sempre amabile, Gesù continuava a farsi vedere che andava stringendo i cuori e le anime, resistendo a queste strettezze, la grazia restava inabilitata. E Gesù prendeva questa grazia in proprio pugno e la portava a quei pochi che si facevano stringere. Ne ha portato a buona parte anche a me. Io non vedo il riscioglio del tuo dolce vita mia. Tu sei tanto buono con me nel farmi parte della grazia che gli altri rifiutano. Eppure io non avverto strettezze, mi sento anzi targhissima. E tanto che non so vedere né la larghezza, né l'altezza, né la profondità dei confini in cui mi trovo. E Gesù, figlia mia di letta, le mie strettezze le avverte chi non facendosi ben bene stringere da me non può entrare a vivere in me. Ma per chi si fa stringere da me come io voglio, passa già a vivere in me. E vivendo in me tutto è larghezza, strettezze non esistono più. Tutta la strettezza dura finché l'anima ha la pazienza di farsi stringere da me. Fino a disfare l'essere umano per essere nella vita divina. Che poi passando a vivere in me io la tengo al sicuro, la faccio spaziare nei miei interminabili confini. Non ho più bisogno di usare legami. Anzi, molte volte devo io forzarle e metterle un po' fuori. Per far loro vedere i mani della terra e per far loro perorare con maggiore ansia la salvezza dei miei figli. E fargli risparmiare i meritati castighi. E loro se ne stanno come sulle spine e mi forzano perché vogliono entrare in me. Lamentandosi che non è per loro la terra. Quante volte non l'ho fatto per te, ho dovuto mostrarmi corrucciato, piccioso, per farti stare un po' a posto, altrimenti non l'avresti durato un minuto fuori di me. Lo sa il mio cuore quello che ho sofferto nel vederti fuori di me, sbatterti, affannarti, piangere. Mentre gli altri fanno ciò per non farsi stringere, tu lo facevi per vivere in me. E quante volte non ti sei tu stessa corrucciata, picciata di questo mio operato? Non ti ricordi che siamo stati anche in contesa? E io, ah sì, lo ricordo, l'altro ieri appunto stavo già per prendere un piccio perché mi mettesti fuori di te. E siccome devi piangere per rimanere della terra, piansi insieme con te e mi passo al piccio. Sei proprio cattivello, Gesù, ma sai di che sei cattivo, cattivello? D'amore. Per dare amore e per amore giungi alle cattiverie, non è vero Gesù? Dopo un piccio o un cruccio che ci prendiamo a vicenda, non ci amiamo di più? E lui, certo, certo, è necessario amare per poter comprendere l'amore. E l'amore quando non giunge con le buone, cerca di giungere con i crucci, con i picci ed anche con le sante cattiverie. Capitolo 51, 2 febbraio 1912 Questa mattina, avendo offerto un'anima come vittima a Gesù, Gesù ha accettato l'offerta e mi ha detto Figlia mia, la prima cosa che voglio è l'unione dei voleri, deve darsi in preda la mia volontà, deve essere il trastullo del mio volere. Starò tanto attento a guardare se tutto ciò che fa è connesso con il mio volere, specie se è volontario, che delle cose involontarie non ne terrò conto, perché altrimenti quando mi dirà che vuole essere la mia vittima, lo terrò come non detto. Secondo, all'unione del mio volere, aggiungi vittima d'amore. Sarò geloso di tutto. Il vero amore non è più padrone di sé, ma è posseduto dalla persona amata. Terzo, vittima di immolazione. Tutto deve fare in attitudine di sacrificarsi per me, anche le cose più indifferenti. A questo sottentrerà la vittima di riparazione. Di tutto deve dolersi, di tutto ripararmi, di tutto compatirmi. Questo sarà il quarto punto. Se si comporterà fedele in questo, allora potrà accettare la vittima di sacrificio, di dolore, di eroismo e di consumazione. Raccomando alle fedeltà, se mi sarà fedele, tutto è fatto. Ed io, sì, vi sarà fedele. E lui? Vedremo. Capitolo 52, 3 febbraio 1912. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e mettendomi la sua santa mano sotto il mento mi ha detto, Figlia mia, tu sei il riverbero della mia gloria. Poi adesso ho aggiunto, nel mondo mi sono necessari degli specchi dove andare a rimirarmi. Una fonte, allora, può servire come specchio per rimirarsi alle persone. Ma quando la fonte è pura? Ma non giova che la fonte sia pura se le acque sono torbide. È inutile a quella fonte vantarsi della preziosità di quelle pietre di cui è fondata se le acque sono torbide. Figlia mia, le anime vergini sono la similitudine della purità della fonte. Le acque cristalline, eppure, è il retto perare. Il sole che fa perpendicolare i suoi raggi sono io. La varietà dei colori è l'amore. Sicché se non trovo in un'anima pulità, retto perare ed amore, non può essere il mio specchio. Questi sono i miei specchi in cui faccio riverberare la mia gloria. Tutti gli altri, la tonta che sono vergini, non solo non mi posso rimirare, ma volendolo fare non mi riconosco in loro. Ed il segno di tutto ciò è la pace. Da questo riconoscerai quanti scarsissimi specchi tengo nel mondo, perché pochissime sono le anime pacifiche. I tempi ristretti di una meditazione non so quanto consentiranno di ben meditare questi capitoli, che come sempre, insomma, le meditazioni cominciano sempre in maniera un po' retorica, sono di una straordinaria profondità. Allora, è meglio addentrarci subito dentro, appunto, ciascuno di essi, per cercare appunto di tirare fuori i ricchissimi e succulenti alimenti per la nostra anima che ne si sono contenuti. Allora, primo capitolo. Dice Gesù, continuando la meditazione di ieri, ecco l'ultima, no? Delle anime che sfuggono alle sue prese e fanno fallire i suoi giochi di amore, quindi continua a farsi vedere che cerca di stringere le anime, e le anime si sottraggono a questa stretta. E Luisa obietta e dice, guarda, io non mi sottrago alla stretta, però tutto mi sento meno che stretta, ma mi sento larga. Il tutto con una premessa. Tutte le anime che rifugono queste strette di Gesù, quindi le grazie che ho preparato per loro, le perdono. E Gesù le riversa su Luisa. In questo caso, ne ha portato a buona parte anche a me. È evidentissimo che qui c'è l'eco delle parole evangeliche, no? Qual è la sorte di quel servo che il solo talento che ha non lo impiega? Toglietegli il talento e datelo a chi ne ha altri dieci. Qual è il segno del servo fannullone che non traffica la mina? Toglietela la mina e datela a chi ne ha dieci mine. E poi, chi osa Gesù, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha o che crede di avere, a seconda delle traduzioni. A chi ha cosa? A chi ha un'anima che si lascia stringere da Gesù, a chi abbia un cuore aperto, veramente, non a chiacchiere, ad accogliere e a mettere a frutto i doni che il Signore dà. Altrimenti il Signore li prende e li dà a chi li sa apprezzare. Detto questo, Gesù spiega perché, dice, Luisa si sente larga e non stretta. E dice, questo sembra un paradosso, quando un'anima si lascia stringere da me, entra in me, quindi entra nella mia dimensione, entra nei miei orizzonti. Può esistere per Dio qualche strettezza? Allora, noi nel parlare comune, per comprendere questa espressione, cosa diciamo? Quando c'è qualcosa, dice, questa cosa mi sta un po' stretta, d'accordo? Oppure quando, per esempio, apertiamo i divini voleri o i divini comandamenti, appunto come strettoie, no? Anche Gesù nel Vangelo dice, sforzatevi di passare per la porta stretta. Ma per chi è stretta quella porta? È una strettezza assoluta o è una strettezza relativa? È una strettezza relativa. Perché è chiaro che un'anima che vuole fare la propria volontà si sente stretto, dinanzi a qualunque cosa, grande o piccola che sia, perché avverte, appunto, la divina volontà come un limite, non qualche cosa che lo, che lo, che gli eleva la pelle, insomma, ma che lo, che lo quarta, che lo, che lo guida come un gioco, no? Ecco. Gesù usa questa immagine nel Vangelo dice, prendete il mio gioco sopra di voi, però, attenzione, il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Quindi è un gioco che non è gioco in realtà. Quando un'anima si lascia stringere da Gesù, che entra nella divina volontà, e che cosa significa? Lo spiega Gesù. disfare l'essere umano per vivere nella vita divina, dopo di che è finito strettezze. Quali strettezze? Quale cosa può andare stretta ad un'anima che vive nella divina volontà? Proviamo a pensarci. Niente. Proprio niente. Anzi, se sa che qualcosa è gradita a Gesù e alla Madonna, anche se, umanamente parlando, fosse una cosa che comporta sacrificio, cose di questo genere, ma corre un matto a farla. E perché però? Perché ama. Quando muore la vita umana per vivere nella vita divina, io la tengo al sicuro, la faccio spazzare nei miei interminabili confini. E allora? Cosa dice Gesù? Non ho più bisogno di usare legami, cioè non è di stare a cercare, comunque, con tanti espedienti, di cercare di riportarle alla ragione, di fargli fare quello che vogliono. Lo fa già anni, c'è un problema contrario. Cioè che l'anima è talmente tanto attaccata a me che quando qualche volta, dice Gesù, devo, come dire, metterla fuori, ecco, forzatamente, quindi, cosa vuol dire? Metterla fuori dalla sua presenza percepibile. Ed ecco qui tutto quanto il tema dei picci e dei cruci che si prendono l'una con l'altra, no? Lo devo fare perché devo fargli vedere i mali della terra per farle, diciamo, desiderare maggiormente la salvezza dei miei figli, indurle a offrirsi come, a fare sacrifici, poi lo vedremo per risparmiare i meritati castigli. E però queste anime stanno nelle spine, lamentandosi che non è per loro la terra. quindi attenzione che lamentandosi che non è per loro la terra. Anche se sono disponibilissimi come tutti quanti coloro che amano il Signore a rimanere sulla terra anche cent'anni se questo servisse per la gloria di Dio. Gesù dice mentre gli altri fanno i diavoli a quattro si perdoni dell'espressione insomma forse non molto adattano quindi cominciano a sbraitare a smaniare a affannarsi perché vogliono sfuggire vogliono divincolarsi dalla stretta d'amore di Gesù queste anime fanno il contrario cioè piangono sbattono si affannano ogni volta che perdono la percezione sensibile di Gesù devono fare questo in unione con il Divino Volere ma è una sofferenza enorme perché è la cosa più importante per loro. Sappiamo quanti sono profondi gli spunti di meditazione la cosa più ovvia da dire se io mi sento stretto nella vita con Gesù stiamo ancora molto al di qua dei confini del Divino Volere perché se Gesù mi ha già stretto io ho lasciato che mi stringesse perché lui non fa le strette di forza o di violenza niente pesa ecco diciamo la considerazione su cui dobbiamo poi personalmente riflettere è spettacolare il capitolo che parla dell'anima vittima certo non tutti sono chiamati a fare le anime vittime però le cose che Gesù dice sono veramente stupende cioè che fa comprendere le varie tipologie di amore che la vittima vive con perfezione e con spirito di appunto immolazione totale ma che evidentemente Gesù cerca in maniera proporzionata i romani dicevano mutati smutandi in ogni anima ci sono quattro punti ben precisi la prima cosa l'unione dei voleri darsi in preda della mia volontà deve essere il trastullo del mio volere questo certamente vale per l'anima vittima ma evidentemente per chi vuole vivere nella divina volontà ci deve essere questa famosa decisione di fondo di darsi in preda alla divina volontà io non voglio più conoscere il mio volere non lo voglio conoscere più e non a chiacchiere ma a fatti questa è la grande decisione originale ecco della Madonna la Madonna non c'ha avuto il peccato originale la Madonna c'ha avuto la decisione originale certamente conseguenza della sua immacolatezza ma istantanea non voglio conoscere nella mia vita terrena il mio volere umano te lo leggo ai tuoi piedi e non lo voglio conoscere più quindi è ovvio poi Gesù spiega le cose involontarie non ne dirò conto perché in questo mondo mica è tanto facile insomma non muovere ma anche un respiro insomma fuori della divina volontà però Gesù starò attento a guardare se tutto ciò che fa è connesso con il mio volere specie se è volontario che volontariamente consapevolmente coscientemente avverte che c'è una cosa che non dovrebbe fare perché Gesù non piace e la fa non può essere anima vittima ma non può neanche come dire pensare di crescere nella vita di unione con la divina volontà seconda cosa anche qui ripeto nell'anima vittima e non è un caso insomma che Luisa apostolo dal divino volere fosse anzitutto sposa e vittima e poi figlia del divino volere significa che ciò che questi due stati particolari che riguardano un'anima comportano in maniera radicale in maniera non radicale ma in maniera comunque sostanziale devono essere vissuti da ogni anima che vuole vivere in questo modo vittima d'amore che significa 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 che sarò geloso di tutto nella sacra scrittura qualcuno si scandalizza ma già nell'antico testamento si trova scritto che Dio è un Dio geloso ma non è un Dio geloso come vizio come lo siamo noi noi siamo gelosi perché vogliamo tutto per noi perché siamo egoisti non vogliamo dividere i nostri beni con nessuno quando uno è geloso delle sue cose delle persone eccetera ma Dio è geloso perché se il cuore non è tutto per lui amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze la persona non sarà felice d'accordo questo è il motivo che lo rende e sa che se disperdiamo la nostra potenzialità ad amare in mille oggetti distinti e differenti non si realizza l'unione d'amore che è la più importante e che si unisce all'unione di volere con la persona amata che è lui ancora vittima di immolazione tutto deve fare in attitudine di sacrificarsi per me anche le cose più indifferenti questa è un'intenzione da ammetterci no? faccio questo non faccio questo per Gesù perché Gesù lo vuole e con l'intenzione di amarlo e di servirlo infine la vittima di riparazione di tutto deve dolersi di tutto ripararmi e di tutto compatirmi questo riguarda la vita intima di preghiera quindi e questo insomma chi stai pregando l'ora della passione per esempio per chi viene a dire quanto partecipi realmente quanto ti addolori vedendo Gesù ridotto in quel modo insieme con Luisa che in certi momenti è veramente straordinario nel descrivere la sua partecipazione ai dolori di Gesù e a te che effetto ti fa? ripari sia con gli atti di riparazione interiore sia con le penitenze riparatrici nella misura in cui conosci sai è possibile nei limiti della discrezione certamente con il consiglio di persone sagge tutto quello che si avverte questa esigenza questo in maniera un po' proporzionata fa parte insomma della vita che Gesù chiama a vivere chi desidera vivere nella divina volontà che è la vita stessa di Gesù unione di volere unione di amore gli esorto diceva San Paolo a vivere come sacrifici viventi santi e graditi a Dio e vittima di riparazione sembra sentire la Madonna di Fatima pregate fate penitenza per i peccatori perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro offrite sacrifici di riparazione per i peccati con cui Gesù è offeso e infine c'è l'ultimo punto anche questo è molto importante immagine stupenda ogni tanto Gesù usa delle immagini mantiene quell'abitudine che aveva quando era sulla terra nel parlare di ricorrere a similitudini a metafore a parabole ad allegorie qui bellissimo qui usa l'immagine della fonte innanzitutto chiama Luisa il riverbero della mia gloria il riverbero è chiaramente termine che fa riferimento ad uno specchio lo specchio che fa riverberare la nostra immagine quindi significa Gesù fa l'immagine subito della fonte e dice una fonte può essere pura però bisogna vedere se le acque sono torbide e se le acque sono torbide o cristalline perché se le acque sono torbide o cristalline anche se il sole ci batte non diventano argentine e non si vede quello spettacolare fenomeno fisico che è la varietà dei colori causati dal contatto della luce con l'acqua quel fenomeno per esempio atmosferico che da origine quando si determina nell'aria questo questo contatto a quello che tutti conosciamo è che è l'arcobaleno l'arcobaleno non è altro l'arcobaleno di solito si vede dopo i temporali dopo cose di questo genere che questo incontro tra la luce del sole e le particelle dell'acqua che rimangono nell'aria che fanno un po' come da prisma ecco Gesù esce dalla metafora e dice la fonte pura sì sono le anime vergini certamente ma la verginità e qui fa riferimento alla verginità del corpo Gesù che non è la cosa in assoluto principale ma certamente dovrebbe essere come dire l'involucro esteriore che custodisce la verginità dell'anima questa purità della fonte non giova se le acque non sono cristalline cioè il retto operare in tutto e poi l'amore l'amore che è causato da questa rettitudine di operazioni che si incontra con il sole che è Gesù stesso e il suo amore e che genera amore universale se non trovi un'anima purità questa è la base ma non è tutto così come nella vita di fede nella vita interiore sappiamo tutti quanti quando si ha una grande conversione la prima cosa che quando la conversione è profonda la prima cosa che l'esperienza ci insegna che dal cielo cercano di aggiustare è che l'anima giusta sono i peccati contro la purezza non perché sono i più gravi in assoluto non sono i peccati più gravi in assoluto perché è più grave fare una comunione sacrile fare un peccato contro la purezza ma perché sono i più diffusi i più reiterati i più mortificanti per l'essere umano per la dignità dell'essere umano e e quelli che producono tra l'altro un sacco di danni e che danno luogo praticamente sempre per quanto riguarda la materia a gravità perché la materia del sexto è sempre grave però non è che un'anima che non commette più gli atti impuri è santa assolutamente diciamo quello è il punto di partenza perché se non commette mai gli atti impuri facciamo un esempio comune poi c'è una lingua senza padroni parla e sparla a destra e a manca è litigiosa è iraconda è rascibile è superba è arrogante capito che è pura ma non abbiamo finito insomma quindi le acque sono sicuramente torbide certo la sorgente è diventata pura meglio una sorgente pura che una sorgente comunque violata però non è sufficiente questo così come non è sufficiente ad un'anima che voglia appunto essere tutta di Gesù la sola ecco punto purezza esteriore che pure è importantissima no? occorre vedere le opere Gesù dice non che dice signore e signore entra nel regno dei cieli ma che fa la volontà del padre mio e l'amore dice se ci sono queste cose io mi specchio in quell'anima ma se queste cose non ci sono non solo non mi posso rimirare ma io non mi riconosco in loro pur volendolo fare come può riconoscersi Gesù in un'anima che per esempio è ripeto superba arrogante orgogliosa iraconda charliera chiacchierona sparla che ne so provoca contese litigi giudica intende sempre a male le intenzioni rancorosa soffende non perdona perde un sacco si perde in mezzo a una montagna di frivolezze di cose inutili che ne so è vanitoso tutto quello che ci può venire in mente dove sta Gesù come fa a specchiarsi dice io non riconosco la mia immagine non mi assomiglia questa qui è chiaro questo qua come faccio a capire che perché tutti quanti di noi dicono sarò un po' superbo sarò come faccio a capire che che io sono uno specchio di Gesù e qui ritorna uno dei temi ricorrenti non solo in questi scritti ma in tutta la scetica cattolica sono anime pacifiche il segno di tutto ciò è la pace un'anima in pena come la chiamiamo un'anima inquieta un'anima turbata un'anima che non trova la terra sotto sotto i piedi ha qualcosa o molte cose che non vanno questo bisogna metterselo bene in testa e quando ci sono delle cose che non vanno le cose che non vanno così come i problemi della nostra vita umana se a casa se si rompe la caldaia dico ah bene ho capito che si è rotta la caldaia ma devi chiamare qualcuno che l'aggiusta perché se non ci metti mano ad aggiustare la caldaia la caldaia non si aggiusta da sola se si sfascia il condizionatore devi chiamare il tecnico che te lo ripara se si sfascia il frigorifero è la stessa cosa se i tubi del bagno perdono e fanno entrare l'acqua nel coso dell'inquirino devi chiamare l'idraulico d'accordo cosa significa questo fuori di metafora che se io non sto in pace io devo andare a vedere che cosa è rotto dentro la mia anima che cosa è che non funziona e una volta che l'ho visto ci devo mettere mano devo riparare devo aggiustarlo devo ripararlo devo lavorarci perché c'è un principio non si aggiusta da sola anche le cose del nostro corpo non si aggiustano mica da sole le cose del nostro corpo quando qualcosa non funziona noi abbiamo l'anima gli scienziati la chiamano l'organismo che sovrintende tutte quante le funzioni vitale e che mette le cose a posto l'unica differenza è che l'anima alcune cose le fa perché gli ha insegnato il padre eterno creandola e noi non ne siamo coscienti ma quando quando non funziona qualcosa nel nostro organismo l'anima lo fa cioè quando arriva una gente patogena i globuli bianchi crescono d'accordo non è che crescono perché glielo dico io di crescere con un atto cosciente crescono perché qualcuno glielo dice però ecco quindi ad ogni problema bisogna come dire opporre una soluzione d'accordo perché anche quando la soluzione sembra automatica in qualche cosa che noi vediamo nel fiat creante in realtà automatica non è è che è stata già prevista la possibile soluzione dinanzi a quel problema ecco i problemi della nostra anima non hanno soluzioni automatiche né previste perché Gesù ha voluto che questo fosse frutto della nostra azione cooperante con la grazia che lui ci manda docile docile e appunto ben sintonizzata con quelli che sono i divini volieri quando la nostra anima starà sostanzialmente a posto perché poi in questo mondo insomma ecco poi ci saranno sempre degli interventi continui di aggiustamenti e di manutenzione veramente un po' come le nostre case terrene avvertiremo la pace così come in una casa dove tutto funziona se sta bene perché funziona tutto e non manca nulla non manca nulla bene Santa Vergine Maria aiutaci a entrare bene dentro noi stessi come sempre anzitutto a verificare se ci sentiamo stretti o larghi dentro i divini voleri a quanto la nostra volontà è fusa con quella divina a quanto il nostro amore è concentrato su Gesù solo ed egli è il principio e il fine di ogni nostra azione a quanto operiamo rettamente e a quanto realmente diamo vita illuminati dal sole divino ai variegati colori non solo dell'amore ma di tutte quante le virtù che sgorgano in noi dal contatto con il sole divino che possiamo lasciarci stringere da Gesù senza sfuggire dalle sue mani e dentro questa stretta imparare a operare e cooperare in tutto con lui e con la sua grazia nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consorarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria